Tutta questione di volontà, facile solo a dirsi, perché smettere di fumare non è affatto una passeggiata e talvolta nemmeno i motivi di salute riescono a frenare i fumatori incalliti. Colpa dello stress e quel gesto di portare la sigaretta alla bocca è ritenuto da molti rilassante. L'azienda di sigarette elettroniche ovale punta proprio su questo, non perdere la gestualità da fumatore riducendo al minimo i danni causati dalla nicotina. Come spiega la proprietaria rivendita ovale, Giussi Pinto. È un modo alternativo di fumare, per cui si sceglie di fumare in maniera alternativa un prodotto che non fa male in quanto non ha combustione della carta, non ha catrame, ha soltanto la nicotina all'interno che però l'obiettivo dell'azienda è proprio portare il fumatore, lo svapatore a fumare senza nicotina in quanto noi abbiamo fragranze con 9 mg e 16 mg di nicotina e poi anche con lo zero. Per cui una volta scalata la nicotina si può procedere a fumare, svapare in tutta serenità senza nicotina con lo zero. Nell'ultimo anno siamo arrivati a oltre 400 punti vendita in Italia e in tutto il mondo circa 600, per cui ha un ottimo riscontro. Concordiamo con la scelta del ministro Balduzzi. Anche da prima noi comunque non vendevamo ai minori di 18 anni la sigaretta elettronica con un nicotina.